si parte in viaggio verso il cro il team di istruttori dell'aeroclub Benevento è al top oltre a Marco Rapolla abbiamo il comandante Venanzio Rapolla con più di 10.000 ore di volo alle spalle abbiamo avuto le lezioni col professor Della Valle che ci ha spiegato davvero tutto sui nostri droni le ore di lezioni sulla meteorologia che mi sono piaciute tantissimo un'esperienza quindi davvero fantastica ora sì che possiamo tornare al mio viaggio verso il cro